Buonasera pubblico di Youtube, praticamente siamo qui a una nuova puntata di GeoGeo, il programma dedicato interamente agli animali, qui è un freddo buono, voglio dar freddo, perché sa, in questi studi di GeoGeo naturalmente noi teniamo dei lupi e quindi ci vuole un po' da retta fredda per loro, perché noi amiamo gli animali, noi vogliamo bene gli animali, quindi noi, molto freddo, comunque adesso trasmetteremo per voi, solamente per voi, popolo di Youtube, il primo cavallo umano, ragazzi, ragazzi non sto scherzando, popolo di Youtube, vi presenterà come vagalo, è roba da matti, ma mi raccomando, no, aspettate, aspettate, sì, Piero, sì, ah sì, non è ancora pronto il servizio, sì, allora senti, mando un attimo di pubblicità, sì, un secondo solo di pubblicità, va bene, già Piero, siccome mi informano che non è ancora pronto il servizio, ma tornate con me dopo la pubblicità, pubblicità! Circus Incredible Club Night presenta Halloween Party, special guest Rick Leroy, Romano Alfieri e ladies and gentlemen, direttamente da Circus Incredible, gli artisti residenti Chris and Ballovox! Bentornati popolo di GeoGeo, adesso il pro il servizio mi ha detto Gianni che è pronto, quindi non aspetto nient'altro che dirvi solo questo, scordetevi questo servizio sul mondo degli animali, su, 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 al trotto, vediamo il cavallo che esegue questo trotto, è incredibile, ragazzi è un cavallo umano, lo vedete solo sul GeoGeo, cavallo umano di razza pura, una razza che nessuno comprende, è una razza unica per il suo esemplare, salto! vediamo il cavallo che esegue anche degli esercizi veramente incredibili, salto con 180! 360! era un 360 comunque, era un 180 doppio! va bene, questo cavallo è molto veloce, questo cavallo ha rotto il cazzo! popolo di GeoGeo, qui è ancora freddo, comunque vi ringrazio di aver scelto la nostra televisione che ama, che ama gli animali, sapete, la nostra cazzo, GeoGeo ama gli animali come voi amate vostra madre, quindi un appuntamento alla prossima puntata con GeoGeo, qui per voi, Leo Bullotta da Radio 105!